Buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi, sono Lorenzo come sempre vi porto attraverso il mio mondo degli investimenti, attraverso il mio canale di informazione e formazione finanziaria, partiamo quindi da oggi con la nuova programmazione che ci accompagnerà per tutto il 2021, come sapete nell'ultima parte del 2020 avevo fatto un video ogni giorno o quasi e come preannunciato in un post qui su youtube ma anche sugli altri canali social ho deciso di reimpostare la programmazione per il 2021 e di pubblicare 4 video alla settimana il martedì, il giovedì, il sabato e la domenica, questo per dare maggiore qualità ai video che propongo, ho sempre riservato di mantenere la qualità altissima purtroppo anche per ragioni personali non riesco veramente a starci più dietro a fare un video ogni giorno però 4 video di altissima qualità come sempre però mi tengo comunque dei bonus, delle possibilità nel caso ci fossero insomma situazioni di mercato particolari non vi preoccupate vi accompagnerò con degli eventi spot, partiamo quindi con questo primo video della nuova programmazione utilissimo per tutti 2021 i miei obiettivi non solo dividendi, ovviamente quando si cerca di raggiungere un obiettivo è corretto secondo me scrivere anche magari proprio su un foglio cartaceo oppure se volete scriverlo sul cellulare o magari su un foglio excel insomma scrivetelo dove volete però fissare degli obiettivi misurabili e comunque onestamente raggiungibili è importante per aiutare se stessi proprio al raggiungimento di questi scopi stessi andiamo quindi a vedere quali sono i miei obiettivi per il 2021 andiamo subito avanti quindi col video mi raccomando però come sempre prima un bel like e schiacciate sul mi piace in questo modo supporterete il mio canale e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanellina per attivare le notifiche partiamo subito però allora ovviamente non solo dividendi ma primo obiettivo è il monte dividendi da raggiungere nel 2021 allora come vedete in questa tabella 2019 raggiunti i 5513 euro l'anno scorso 4867 euro purtroppo ahimè in calo abbiamo già analizzato il perché e per come di questo calo e obiettivi per il 2021 me ne sono posti due allora un obiettivo minimo fare almeno un euro meglio del 2019 fare meglio del 2020 è troppo semplice voglio almeno aumentare di un euro e quanto raggiunto nel 2019 obiettivo più sfidante 6.000 euro ovvero 500 euro al mese di dividendi ce la farò lo vedremo ovviamente al 31 12 di quest'anno abbiamo 360 giorni davanti e vediamo un pochino di di farcela ovviamente senza fretta non c'è necessità di investire tutta la liquida subito aspetteremo aspetterò occasioni importanti sul mercato se arriveranno bene se non arriveranno e amen mi accontenterò del obiettivo minimo di 5514 euro come è andata quindi negli ultimi anni lo possiamo vedere nella tabella una progressione dal 2016 ovvero da quando ho ottenuto traccia effettivamente dei dividendi incassati infatti il mio il mio percorso è iniziato molto prima nel 2016 sono partito da 3035 euro 2017 3685 poi 4433 poi 5513 e quest'anno 4867 ovviamente l'obiettivo è quello di crescere almeno di 50 60 euro al mese come media media ce la farò l'abbiamo già detto lo sapremo solo alla fine dell'anno andiamo secondo obiettivo sfruttare i cali di mercato allora quest'anno lo vediamo nel grafico dello standard semplice 500 abbiamo avuto un calo fortissimo a marzo di quest'anno quando gli indici hanno perso fra il 30 e il 40 per cento mi ero fatto una tabella l'ho rispettata nell'acquisti sul fronte degli acquisti ma effettivamente guardando con lo specchietto retrovisore potevo avere maggior coraggio quindi facciamo esperienza di quanto è successo nel 2020 se non dovesse succedere e come me lo auguro insomma se non ci dovessero essere diciamo episodi fatti molto impattanti sull'economia difficilmente insomma assisteremo a un nuovo crollo del 30 40 per cento degli indici però teniamoci pronti perché chiaramente si tratta di eventi cosiddetti cini neri che sono inaspettati che nessuno può prevedere d'altronde quest'anno chi avrebbe previsto un coronavirus nessuno cosa potrebbe succedere sui mercati una crisi finanziaria un crollo del bitcoin che magari porta giù anche tutti i mercati azionari non so altri eventi imprevedibili un ritorno di un altro virus speriamo di no oddio non terriamo cela però come sono da sfruttare i crolli importanti del mercato allo stesso modo nel cerchietto rosso di settembre novembre abbiamo o almeno personalmente imparato e in parte sono riuscito a farlo che bisogna sfruttare anche i piccoli cali di mercato quindi inutile avere masse di liquidità enormi almeno secondo me sfruttiamo i piccoli cali di mercato anche per incrementare le posizioni e per aumentare il flusso di dividendi questa chiaramente è sempre la mia opinione poi voi siete liberi di commentare e dire la vostra alla fine di questo video andiamo avanti con gli altri obiettivi incrementare etf e azioni già in portafoglio ovviamente come sapete o se non lo sapete potete andare a vedere il mio portafoglio che è disponibile sul blog il link al blog lo trovate anche nei nella descrizione a qualsiasi video che faccio attualmente ho in portafoglio circa 80 titoli tra etf certificates azioni e fondi direi che molti di questi sono buoni li tengo diciamo con un obiettivo temporale lunghissimo di 20 30 anni pertanto alcuni di questi titoli in particolare gli etf diciamo periodicamente vanno incrementati l'ho già fatto negli ultimi anni e la mia intenzione è quello di continuare a farlo per le azioni il discorso è un pochino diverso chiaramente rischiando di andare a inserire troppo rischio specifico sul singolo titolo occorre comunque calibrare bene gli investimenti sulle singole azioni invece per gli etf si può andare via un pochino più con il pilota automatico andiamo avanti inserire nuovi titoli di occasioni sul mercato se ne presentano sempre per diversificare ulteriormente il mio portafoglio mi pongo l'obiettivo comunque di inserire nuovi titoli in portafoglio per chi non lo sapesse mensilmente pubblico un approfondimento nel quale inserisco comunque una lista attualmente sono di 60 titoli che sto seguendo alcuni sono già in portafoglio altri non sono in portafoglio una decina li potrei inserire per arricchire ulteriormente il mio portafoglio per diversificarlo ulteriormente sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista settoriale ovviamente il focus è sempre sui dividendi ma anche può essere sulla crescita del titolo stesso perché potrà inserire un amazon o magari un alibaba ad esempio andiamo avanti qui potete vedere appunto le schermate dell'approfondimento di gennaio che è uscito pochi giorni fa se volete e se non lo sapete c'è la possibilità anche di abbonarsi per risparmiare sugli acquisti il link come sempre lo trovate nella descrizione a qualsiasi video lo trovate come i miei approfondimenti un link che va direttamente alla piattaforma gamroad che mi permette di gestire l'uscita di questi periodici mensili e l'abbonamento stesso aumentare il valore il valore del patrimonio chiaramente oltre a ricevere un flusso di dividendi crescenti nel tempo il mio obiettivo è anche quello di aumentare il mio patrimonio investito come questo ovviamente reinvestendo i dividendi che al momento non mi servono per vivere ma anche incrementando attraverso i miei risparmi mensili che mi derivano dallo stipendio incassato nel 2020 sono riuscito a fare a un più un più 5,5 per cento nel 2021 un bel punto di domanda perché chiaramente i mercati sono sempre un punto di domanda molto molto grande e quindi su questo ahimè non posso pormi un obiettivo annuale ho un obiettivo pluriennale che prevede l'aumento del mio patrimonio di una certa cifra però va un pochino mediato diciamo quindi anno per anno magari un anno potrei fare un aumento di un certo importo e l'altro anno è già capitato potrei avere anche un decremento del mio patrimonio ad esempio a marzo di quest'anno ho avuto un decremento molto molto forte che è stato più che compensato per fortuna negli ultimi mesi come sapete pubblico messi in mente la composizione del mio patrimonio attualmente è quello che vedete in questo grafico l'ultimo aggiornamento è al 15 di dicembre del 2020 a metà mese faccio comunque un refresh del mio patrimonio inutile farlo tutti i giorni io personalmente guardo che mio portafoglio una volta al mese è più che sufficiente come potete vedere quindi andiamo da investimenti più conservativi come obbligazioni liquidità assicurativo e fondo pensione che ricoprono all'incirca un 40 per cento del mio portafoglio a qualcosa di un pochino più aggressivo come i certificate le azioni e etf fondi che in realtà etf fondi spaziano un pochino sia sull'azionario che sull'obbligazionario e quindi possiamo dire che più o meno siamo 50 e 50 come rischio però possiamo andare avanti con il prossimo obiettivo youtube sì ovviamente non solo obiettivi finanziari ma anche obiettivi in questo caso diciamo di secondo lavoro fra virgolette è più una passione che un lavoro è anche un divertimento diciamo allora nel 2020 in nove mesi perché il canale è partito ad inizio aprile ho raccolto 1500 iscritti l'obiettivo nel 2021 è quello almeno di raddoppiare e il numero di iscritti quindi arrivare a 3000 ma obiettivo ambizioso perché no arrivare anche a 4000 sarebbe veramente un obiettivo molto molto interessante si tratta di mantenere una media di 57 nuovi iscritti al giorno allora un obiettivo di 30 di 3000 secondo me è più che raggiungibile 4000 è sicuramente molto sfilante personalmente non mi piace acquistare iscritti so che esistono servizi in tal senso ma da quello che leggo insomma non li ho approvati però da quello che leggo comprare gli iscritti non porta nessun beneficio perché comunque si tratta di spesso robot che quindi non non commentano non guardano i video e magari dopo un po forse si disiscrivono non lo so quindi facciamo una crescita sana del canale youtube altro obiettivo nel 2020 ho pubblicato il mio primo romanzo finanziario un primo libro diciamo un romanzo finanziario pensato a 50 anni che magari non lo sapete lo potete trovare su amazon in formato cartaccio in formato digitale potete leggere anche le prime pagine gratuitamente si tratta di un libro sotto forma di romanzo che vuole spiegare un pochino la finanza comportamentale l'obiettivo quindi è quello di scrivere un secondo libro sono un pochino allo studio sulla stesura di un libro sugli etf se vi può interessare scrivetemelo nei commenti perché sto iniziando a buttare giù qualche bozza iniziale di quello che potrebbe essere un pochino l'indice generale e magari se volete datemi pure i vostri contributi datemi qualche idea qualche spunto perché è un'idea che voglio veramente concretizzare quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando aumentiamo il numero di iscritti su youtube attualmente siamo in 1540 l'obiettivo dei 3000 annuali come detto è più che raggiungibile 4000 chissà vedremo e niente questi sono i miei obiettivi 2020 spero che 2021 scusatemi spero che vi siano piaciuti se no se avete qualcosa al riguardo scrivetemelo pure nei commenti e mi raccomando scrivete anche i vostri obiettivi voi quali obiettivi vi ponete nel 2021 scrivetemelo mi trovate anche sugli altri social se volete contattatemi pure un caro saluto a tutti da Lorenzo a presto ciao